La vera opera d'arte nasce dall'arcista, ma poi acquista vita propria. Diviene un soggetto vivente in un'esistenza reale. È l'incontro, lo scontro, il confronto. È questo il concepimento. È questo il miracolo. È la fertilità, la ricchezza. La creazione, misteriosa, enigmatica, mistica. L'arte è fondamentalmente fatta da persone che cercano di realizzare le proprie insoddisfazioni. La ricerca della bellezza è la bellezza stessa. La ricerca della bellezza è la bellezza stessa. Grazie per la visione.